Ma sai perché ti chiedo di scrivere? Perché il primo passo per avere successo nella vita è piacersi e troppo spesso molti imprenditori con cui magari ho il modo di lavorare ogni giorno non lo fanno, non si piacciono e credere in se stessi è la prima cosa e molte persone magari credono in parte in loro stessi perché magari hanno quella sfaccettatura che non gli piace tanto però ti dico una mezza verità io utilizzo spesso la parola mezza verità perché magari è una verità per me e magari non lo è per te però io sono certo che se sei tu il primo a non credere nelle tue capacità come pretendi che gli altri possano credere in te? Come puoi pretendere che magari un'altra persona si possa affidare a te per la sua azienda? La sua azienda sono i suoi sacrifici lui si alzerà tutti i giorni presto andrà a dormire tardi sono i suoi sacrifici e mettere in mano il suo giocattolo a te perché lo dovrebbe fare se sei tu la prima persona che non crede in te stesso